E' bellissimo, è bellissimo, è il promotore di imaging come himno mondiale di pace, di fratellanza, è qui con noi, è un progetto che stiamo portando avanti, lui ha portato sul palcoscenico e noi lo aiutiamo e collaboriamo con lui per portare avanti questa iniziativa che è molto bella, c'è bisogno di pace e di fratellanza in questo pianeta vettoriato dai problemi, però ce la faremo, se lo possiamo fare, io sono fiducioso, per cui a me è girino della pace, inno della fratellanza, grazie a Joe Veneziano che è qui con noi e soprattutto grazie a John Lennon che ha scritto questa canzone nel 71 e che noi abbiamo continuato a portare avanti, ho portato anche un manifesto, ecco Joe, hai visto il manifesto di Imagine Again? E' lo spettacolo che io portai a Grayscale, lontano 1990, era il 6 dicembre 1990 e noi pensavamo ancora di immaginare e continuiamo a immaginare e siamo contenti, quindi immaginando si passa una vita migliore, anche perché se uno pensa solo in realtà, immaginiamo, se puoi immaginare che si è anche felice e poi magari ti capita di diventare una vera, per cui io c'ho la mia bambina lì che non mi fa più immaginare niente perché ce lo sento davanti agli occhi, Alice, perché lei è Alice, di moglie Alice e sapete chi sono io, io sono il paese di meraviglia. Ragazzi, applausi per questa mia puntata, grazie, grazie a tutti i contigli. Grazie, capite se avessi avuto un amore che non si chiamava invece, io non si avessi avuto il paese dell'amore, però avrei avuto forse un gatto e non si avrebbe stato uno spiegato. Siamo pronti con Annelisa Mazzolari, poi vorrei ringraziare anche Sassà Massarelli, grande musicista e fantastico amico. Un applauso a Sassà. Sassà Massare, grazie a tutti. Sassà Massare, grazie a tutti. Sassà Massare, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.